Grazie, 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 grazie per noi, per questa cultura della terra, dell'intelligente, ma anche di un'intera di un'esame, che non la sono più di difficoltà, che sono tutte le comunità, ma uno sguardo profondo, e che abbiamo bisogno di una chiesa che desidera di una chiesa di cene, di una chiesa di trasferire, di grande e non lo ho percepito, e perciò il nostro corpo, è Cristo, nella terra del antelano, sognato con una chiesa, un'unica, una chiesa della nascara della parola, degli Eucalistini, che saltare la piazza, e i poveri, oggi di un percorso di soffrire, per questa sofferenza, Grazie.